Cari amiche, oggi realizzo questo video per far vedere l'oggetto a 360 gradi. Un'altra variante della collana chiama Angeli, sempre con lo cosillofono, questa è a specchio, tutta color argento. La collana viene spedita con il sacchettino, questo sacchettino per fare una confezioncina a regalo, se si vuole fare sempre un lavoro di salino, e il tutto viene spedito con SDA, Corriere Espresso. La catenina è sempre così, la classica catenina della collana chiama Angeli, sempre così rifinita a palline.